Io dico una cosa a fassino, non si vergogni, ok? Lo so, lo so, lo so, lo so, può essere anche creptomania, perché la creptomania, raga, purtroppo è considerata una malattia, è considerata un morbo, a me malattia, non mi piace la parola malattia, poi se vogliono congeniarla che sia così, che sia tale, onestamente non me la sento io di dirlo, ok? Quindi non voglio fare la cultura woke che è così, oppure che per forza, non è anche per sentito dire, che per forza ha una malattia, non me la sento, io direi è un morbo, secondo me è così, secondo me è così, perché è impossibile con la sua esperienza, con quello che ha guadagnato, con quello che sta guadagnando, è un deputato e non solo, cioè vai a rubare, va, no vai, prendo le distanze, tu e lei, va a rubare, capisco l'enorme vergogna, io lo capisco, ma lei ha dei doveri, ok? Lei ha dei doveri, quindi per avendo appunto dei doveri pagato dalle nostre tasche, santo Dio faccia quello che deve fare, faccia il suo. Raga, nel PD c'è un grande imbarazzo per quello che sta succedendo e quello che è successo in Parlamento, e ora vi dico cose, a bestia ognuno di noi! Sì, un altro di sé per i centovi iscritti, attivate la campanella qua sotto, sempre e comunque, a bestia per gli aggiornamenti e notifiche del canale, super grazie di cuore a ognuno di voi. Lo capisco, lo capisco, si stia vergognando, forse è anche consigliato male per me, da questo punto di vista. C'è anche il governo, o già Meloni, anche, che invocano appunto la sua presenza, è sparito, è sparito, sempre presente in Parlamento, parla, fa il suo lavoro, propone le sue idee, è di vecchia scuola, e adesso è sparito. Sono giorni, anzi, più di una settimana, che non si fa trovare. Perché il PD pure gli ha detto, eh, guarda che devi andare in Parlamento, no, 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 per carità, non è ancora il momento. No, no, tu devi andare in Parlamento, poi quello che sa giusto, sperando per te che la situazione sa giusti, ma ti devi presentare, così facendo vai in pasto appunto alla maggioranza. Cioè, e più che altro il PD e la Schein sono imbarazzati da questo suo atteggiamento perché non possono difenderlo. È indifendibile, ci sono dei video, ci sono dei testimoni. E se lo cacciano, come sembra anche dal partito, gli danno così ulteriormente un motivo alla maggioranza per essere più forte, per essere più forte a Giorgio Meloni. Anche io però sono d'accordo che si debba presentare, capisco la vergogna, io, pure io, delle volte mi vergogno talmente tanto di alcune cazzate che alla fine ci sono cose ben più importanti, tipo questa, è una cosa grave, per carità, ma lei ha dei doveri, si deve presentare, si deve presentare in Parlamento. Quando è chiamato, chiaramente, però, vedendo i video, ogni giorno, non dico per forza ogni giorno, ma almeno una volta o due settimane era lì presente e prendeva parola. E prende parola. Non è che si stia proprio, immagino, per questo scandalo, si stia tagliando lui fuori dal partito e dalla politica, no, perché comincia a pensarlo. Se è così, chiaramente, deve rinunciare al guadagno che c'ha da deputato. Rischia grosso, lo so, però ha dei doveri. Voi che cosa ne pensate? Grazie. Grazie.